Altri 63 decessi dovuti al coronavirus in Toscana. Le nuove vittime sono 27 uomini e 36 donne con un'età media di 81 anni che portano a 3.348 il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza. È il dato più drammatico dell'ultimo bollettino regionale sull'epidemia che segna anche un aumento dei nuovi positivi al contempo dei tamponi eseguiti. I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 636, il 15,2% dei 4.188 soggetti testati. Le province di Firenze e Pisa sono quelle con l'incremento maggiore. Oltre ai 100 casi, 183 a Firenze e 101 a Pisa, anche a Lucca e Livorno l'aumento è sensibile, 80 e 74 nuovi positivi, più contenute le variazioni negli altri territori. Continua a scendere il numero delle persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid. Attualmente sono 1.261, 42 in meno rispetto al bollettino precedente, delle quali 199 in terapia intensiva. I positivi in Toscana invece sono 14.260. Oltre ai ricoverati ci sono 12.999 persone in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatiche. Altri 26.748 sono invece i toscani in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con dei contagiati.